Eccoci qui in un'altra puntata su Leibniz, dove aggiungere appunto un altro tassello importante inerente il suo pensiero su Dio, sulla sua esistenza, e il suo pensiero sul male e sulla libertà umana. Iniziamo con il suo pensiero sull'esistenza di Dio, che passa attraverso due prove, quella a posteriori e quella ontologica. La prova a posteriori è ripresa dalla filosofia di Tommaso d'Aquino nella somma teologica, che contrappone ciò che è possibile e ciò che è necessario. Leibniz usa il suo principio di ragion sufficiente per sottolineare che se c'è qualcosa di possibile, ci deve per forza essere qualcosa di necessario, e quel qualcosa è appunto Dio. Inoltre abbiamo detto che Dio ha liberamente scelto il nostro mondo tra tutti i mondi possibili, quindi Dio conosce tutti i mondi possibili e ha scelto il nostro. Quindi Dio è la ragion sufficiente del nostro mondo, ma è anche la ragion sufficiente di tutti gli altri mondi possibili, e quindi è necessario. La prova ontologica invece viene ripresa dal pensiero di Anselmo d'Aosta, sempre usando il concetto di possibile. Leibniz usa il suo principio di ragion sufficiente per sottolineare che se c'è un essere possibile, ci deve per forza essere un essere necessario, e quell'essere è appunto Dio. Ma adesso passiamo ad un altro argomento spinoso. Perché c'è il male? E perché Dio consente il male? Ecco, a tal proposito conia un nuovo termine, che è la teodicea, per giustificare Dio dall'accusa di essere colui che ha concesso l'esistenza del male. Il male è, come sosteneva anche Agostino, di tre tipi. Metafisico, che è dentro le creature ed è una forma di non essere. Il male morale, che è il peccato e la colpa. E il male fisico, che deriva dai due mali precedenti, ossia dal metafisico, conseguenza di una natura imperfetta, e dal male morale, conseguenza della punizione di una colpa. Il tipo di male che necessita la giustificazione è sicuramente quello morale. Il male esiste, secondo Leibniz, perché Dio è stato permissivo nei confronti del peccato, perché ha dato il libero arbitrio. Ed è proprio il fatto che Dio ha dato libertà all'essere umano che esiste il male. Ci vediamo nella prossima puntata per conoscere un nuovo filosofo.